Le domande sono, allora, tutti abbiamo romanzato e abbiamo parlato sul fatto che la monna Lisa sia la Gioconda, detta così da Lisa del Giocondo, il famoso mercante fiorentino, di cui parla il Vasari. Il Vasari nelle vite, uno dei primi biografi degli artisti, ha scritto tante cose, fra cui, ormai incrociate con tutti i dati storici, queste cose non sono sempre vere, anzi, molte sono inventate. Con questo, Lisa del Giocondo ha messo fuori strada praticamente tutti e tutti siamo andati a cercare questo mercante fiorentino messo in bocca dal Vasari. Poi è diventato storia, è diventato storicizzato. Io fatico a credere che uno come Leonardo si sia tenuto un dipinto per tutta la vita, non l'abbia consegnato al committente, non gliel'abbia dato, e non abbia scritto niente di questo dipinto, così come non ha scritto niente di quasi tutti i suoi dipinti, o almeno non è stato ritrovato materiale in cui vada a spiegare l'ermetismo, l'alchimia, le cose che poi erano proibite. E' normale non lasciare traccia di una cosa proibita, è normale non fare leggere cose che poi ti possano portare a un rogo. Succedeva spesso nel 1500, nel 1600. La Gioconda è talmente enigmatica, è talmente misteriosa, che riempie libri interi con le teorie, tutte le teorie le più strane, le più fantastiche. Noi cosa facciamo? Illustriamo delle parti che sono oggettive, le vediamo, con gli indizi, le prove, riusciamo almeno a dare una linea che sia percorribile, un sentiero percorribile. Non abbiamo la presunzione o la pretesa di dire questa è la verità, però questo è un indizio che almeno ci deve far pensare, almeno sorridere, perché Leonardo era un grande burlone, era una persona di umorismo, una persona che si è preso gioco di noi tantissime volte, andremo a vedere ma in maniera eclatante, geniale. Per questo le sue opere, poche, pochissime, lo hanno reso immortale agli occhi del mondo. Tutti vorrebbero essere Leonardo, perché Leonardo era un risvegliato, un illuminato, una persona che attraverso la pittura, il disegno, la pratica, lo studio costante, la domanda e la ricerca delle risposte, la curiosità, è riuscito a mettere in pratica quello che nessuno, pochissimi altri artisti, sono riusciti a fare, nessuno come lui. Allora, la gioconda, ritorniamo al concetto senza dilungarci troppo, perché potremmo fare il video solo sulla gioconda, ma andiamo a quello che ci può far divertire, perché l'arte è anche questo, non è solo la noia sui banchi e annoiarci a sbadigliare. La gioconda deve farci giocare.